Ci troviamo con Antonio Lufrano, organizzatore del convegno intercettazioni telefoniche. Il perché di questo convegno oggi? È noto a tutti che ultimamente la stampa riporta integralmente una serie di intercettazioni che non hanno soltanto un fine prettamente processuale, ma molte volte hanno un senso di mortificare gli interlocutori. Quindi l'esigenza di rivedere la normativa noi riteniamo sia importante. Per questo abbiamo voluto con questo convegno avviare un dibattito che ci auguriamo possa approdare alla Camera per una futura riforma. Senatore, oggi lo strumento delle intercettazioni telefoniche è una garanzia per il cittadino? È sicuramente una garanzia per il cittadino a una condizione che non interferisca su quella che è la sfera della propria privacy. Le intercettazioni devono essere utilizzate esclusivamente per andare alla ricerca di un reato. Se nel corso dell'intercettazione si rileva che non ci sono elementi per continuare ad intercettare, bisogna sospendere perché oltretutto è anche una spessa per lo Stato. Siamo con l'Avvocato Salvatore Sanzone, Presidente della Camera Penale di Termini Merese. Avvocato, un bilancio di questo convegno? Un bilancio sicuramente positivo. Una giornata di studi di grande intensità e di grande partecipazione. D'altra parte il tema richiedeva questa intensità e questa partecipazione. Le intercettazioni telefoniche sono un argomento su cui da sempre ci si confronta con inevitabili polemiche e con inevitabili questioni di carattere giurisprudenziale che a fasi alterne prevalgono e poi invece si dissolvono. Cosa intendo? Oggi ci troviamo di fronte a una grave lesione delle garanzie costituzionali per il cittadino. Tante volte accade che il cittadino si trovi per ragioni di intercettazione sulle pagine dei giornali, risultando poi invece assolto quando viene celebrato il processo che è connesso a queste intercettazioni. Ciò è intollerabile. È una gravissima violazione dei suoi diritti costituzionali, il diritto alla riservatezza e tutto quello che inevitabilmente è la struttura che dovrebbe garantire in questo sistema democratico il cittadino per la sua tutela e la sua garanzia costituzionale.